L'Ao Tzu, antico filosofo cinese e fondatore del Taoismo, una volta disse che un buon viaggiatore non ha piani precisi, perché il suo obiettivo non è giungere alla meta. Si tratta della solita frase fatta sull'importanza del viaggio piuttosto che del traguardo, viaggio inteso come atto formativo e spirituale dell'uomo. Ma sono abbastanza sicuro che l'Ao Tzu nei suoi viaggi non ha mai incontrato una ragazza che si masturba nuda su una motocicletta, a differenza di Kintaro Oe. Come? Chi è Kintaro Oe, avete chiesto? Oh, beh, faccio rispondere direttamente a lui. Mi chiamo Kintaro Oe, ho 25 anni e sono un libero professionista a tutto fare. Ora sto andando al lavoro. Oggi è il primo giorno del mio nuovo impiego. Chissà come sarà, sono proprio allegro. Tornando a noi, Golden Boy è un anime di 6 episodi tratto dall'omonimo manga di Tatsuya Higawa, prodotto dallo studio A3P nel 1995 e diretto dai Royuki Kitakubo. Da noi in Italia Golden Boy arrivò grazie a quella perla dell'MTV Anime Night, un programma serale lanciato sul finire degli anni 90 dall'emittente MTV, che conteneva appunto molti cartoni animati giapponesi anche in prima visione, opere del calibro di Cowboy Bebop, Trigan o Alexander, tutti cartoni che di fatto altri canali, come quelli Mediaset, non avrebbero mai trasmesso, perché pieni di sangue, di sparatori e di violenza, o di ragazze nude sulle motociclette. Perché non stavo scherzando, in Golden Boy c'è davvero una ragazza nuda che si masturba su una moto. La storia di Golden Boy in realtà è parecchio semplice, perché si tratta di 6 episodi molto slegati tra loro, ognuno dei quali incentrato su una buffa disavventura del nostro Kintaro e solo l'ultimo, il sesto, vede una certa continuità con gli altri, ma semplicemente perché ricompaiono tutti i personaggi visti prima. Il protagonista, il simpatico Kintaro, è un ragazzo ingenuo ma di buon cuore di 25 anni, che si è ritirato dall'università perché ha capito che l'unica maestra di vita, banalmente, è la vita stessa. Così, zaino in spalla, è saltato sulla sua mountain bike fiammante e ha iniziato a pedalare per tutto il Giappone, in cerca di un lavoro, di soldi, di un futuro, di nuovi amori, ma soprattutto di nuove esperienze. E proprio mentre pedala spensierato sul ciglio della strada, ascoltando la musica dagli auricolari, viene investito da un'auto sportiva guidata da una donna bionda, bellissima e sexy. La presidente è di una ditta di computer e di software informatici, la stessa ditta per la quale il ragazzo deve sostenere il colloquio di lavoro. Naturalmente, Kintaro non sa nulla di computer, non avendone mai avuto uno, però con la sua determinazione, con il suo animo gentile e con il suo instancabile coraggio, il ragazzo si rivela un ottimo apprendista non che un ottimo lavoratore, al punto da impressionare in bene addirittura la presidente stessa, donna tanto bella quanto anche cinica e pessimista. E da lì in poi, per Kintaro non sarà altro che un susseguirsi di vicende ai limiti dell'assurdo, con donne più o meno giovani, ma sempre affascinanti e sensuali, tra cui un'istruttrice di nuoto che ha vinto le Olimpiadi, ma che prende troppo seriamente lo sport e la competizione, una ragazza indecisa sul suo futuro e facile preda degli approfittatori, e persino una giovane di buona famiglia, che però nasconde una passione sfrenata e morbosa per le corse e per i motori, al punto da, beh, essere molto intima con la sua moto, ma ormai, l'ho già detto due volte, non fa più scalpore. Ogni episodio è costruito abilmente attorno alla stessa identica formula, il protagonista pasticcione arriva, scopre una situazione tragicomica per non dire disperata, e nonostante i mille disguidi fuori di testa, alla fine salva la baracca, per poi sparire nella pallida luce di un sole al tramonto, senza che nessuno riesca a ringraziarlo come si deve per il suo operato, già pronto per una nuova ed emozionante avventura. Ma la cosa davvero sorprendente è che dietro a tutte queste situazioni demenziali e piene zeppe di equivoci ridicoli, si nasconde sempre una seconda lettura, più profonda e a volte anche geniale, a cominciare proprio dal personaggio di Kintaro. È vero, lui è un inguaribile pervertito che adora i gabinetti, perché ci immagina le ragazze sedute sopra, è un completo incapace, goffo imbranato, eppure riesce sempre a capire le persone, empatizzando con loro al punto da diventare insostituibile nelle loro vite. Nel primo episodio riprogramma da zero il complicato software informatico a cui la presidente stava lavorando e che lui ha sbadatamente cancellato staccando la presa elettrica del computer. Nel secondo fa aprire gli occhi a una ragazzina ricca e viziata, convinta di ottenere sempre tutto quello che vuole con il denaro e con il suo corpo. Nel terzo sventa una truffa ai danni di un onesto ristoratore e della sua povera figlia, innamorata di uno yakuza. Nel quarto fa riscoprire ad Ayuko, campionessa di nuoto, la bellezza di divertirsi nello sport senza per forza competere ogni volta all'ultimo sangue. Nel quinto involontariamente riaccende la fiducia della bella Reiko nei ragazzi, dato che lei li considera tutti dei rammolliti. E nell'ultimo episodio, chicca meravigliosa, il giovane salva lo studio d'animazione per cui lavora come fattorino dalla bancarotta, completando all'ultimo secondo la produzione di un importante cartone animato, facendo ridere noi spettatori, ma al tempo stesso mettendoci di fronte alle problematiche che da sempre affliggono il mondo dell'animazione. Problematiche che non si limitano solo a un budget ridotto e risicato, ma spaziano tra tempistiche disumane, personale pressoché assente, inesperienza dilagante e produttori mai, mai contenti. E alla fine di quest'ultima puntata, la voce narrante che ogni volta ripeteva la stessa filastrocca, come quella che avete sentito all'inizio del video, cambia finalmente ritornello. Forse un domani sarà proprio lui, Kintaro, a salvare il mondo dell'animazione. O, perché no, magari il mondo intero. Senza dubbio si tratta di un anime indirizzato in primis a un pubblico maschile, essendo traboccante di signorine bellissime e poco vestite, ma secondo me questa cosa non deve essere vista né come un freno né come un difetto. Tutti i personaggi femminili messi in scena da Kitakubo, che fin da Cream Lemon si è dimostrato molto nelle corde di questo genere di prodotti, non sono macchiette di facciata, con un bel visino e delle belle curve. Sono personaggi costruiti attorno a tratti distintivi, nitidi, come il valore di una carriera lavorativa, o uno spirito guerriero indomito che spinge a primeggiare. O ancora, la paura del crudele giudizio degli altri, siano questi parenti o perfetti sconosciuti. Insomma, elementi decisamente intriganti che portano tutte queste donne a entrare in sintonia con Kintaro, che avrà pure una bizzarra passione per i gabinetti e per altre cose strambe, certo, ma è forse l'unica persona davvero onesta, corretta e disposta a dar loro una mano che abbiano mai conosciuto. Per carità, non stiamo certo parlando di chissà quale critica o chissà quale denuncia sociale da premio Nobel, ma Golden Boy unisce magnificamente il nonsense più ridicolo e più comico a situazioni di vita sentite, a problemi che le persone hanno anche nella realtà. Troppo lavoro, troppo stress, insicurezza, dubbi, paura di non essere all'altezza delle situazioni, vedersi sbattere le porte in faccia, credere di essere fuori luogo, tutte queste cose si sentono dietro ai siparietti buffi e colorati messi su da Kintaro e dai suoi amici, e anche se coperte e dalle risate stanno lì come un'eco lontanissima ma dolce e malinconica. Kitakubo, regista di alcune opere interessanti tra cui Black Magic M66, un episodio di Robot Carnival e il film Rougin Z, qui ci mostra un mondo molto suggestivo, molto tridimensionale, ma sempre costantemente filtrato dagli occhi freschi e pieni di ardore di un ragazzo umile che sa di non sapere, motivo per cui desidera apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo e di utile, perché se è vero che la vita è un viaggio, allora questo è il modo migliore di viverla, girovagando dappertutto, visitando posti, conoscendo persone e soprattutto imparando lezioni, lezioni che possono essere belle, felici e gratificanti, oppure tristi, amare e deludenti, ma che in ogni caso contribuiranno comunque a crescerci e a formarci, facendoci diventare, in un certo senso, le persone che siamo. Grazie a tutti per aver guardato. Grazie. Grazie. Grazie.